Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale 1936 solo io Finalmente il video sull'ottava giornata, andiamo subito veloce a vedere cosa è successo In questa giornata ne sono successe di tutte e di più Ascoli Entella ha fatto i danni peggio della grandine In pratica sono entrati tutti e due gli allenatori, sia Bertotto da una parte che Tedino dall'altra Si sta parlando in questi minuti di Sottille per l'Ascoli e Vivarini per l'Entella E' successo di tutto e di più, il Lecce a Varanga sulla Reggiana Il Cosenza che torna a vincere in questo campionato e lo fa sul campo del Frosinone con una doppietta di Carretta La Spalli che vince con il Pescara facendo una partita con il freno a mano tirato Il Cittadella che riesce a recuperare sull'Empoli lo svantaggio a fine partita Il Brescia anche lui che riesce a pareggiare con un Venezia che va forte, è proprio forte Il Pordenone, gol last minute, 20 secondi, 1-0 e poi si fa recuperare dal mondo nel secondo tempo Ascoli-Entella 1-1 con un Ascoli 9 uomini che riesce a pareggiare grazie a una cazzata del portiere dell'Entella Perché la punizione di Sabine è inassupitata Il Pisa che finalmente torna anche lui alla vittoria quest'anno in campionato sul campo della Regina Che era passata addirittura anche in vantaggio nel primo tempo Poi il Pisa negli ultimi minuti della partita si è svegliato e PAM! Vince la sua prima partita con i gol di Sibilli e di... Ehm... Quell'altro come si chiama? Oh io mi incarto sempre fra Masucci e Marconi Penso Masucci, penso Masucci Salernitana, Cremonese, 2-1 la Salernitana che agguanta il primo posto Agguanta il primo posto di questa Serie B in concomitanza con l'Empoli Che è stato frenato dal Cittadella quasi allo scadere della partita Ragazzi andiamo a leggere i risultati innanzitutto di questa ottava giornata Io vi lascio qui sopra la foto con le partite Io ve le leggo subito Frosinone-Cosenza 0-2 Lecce-Reggiana 7-1 Spalpe-Escara 2-0 Cittadella-Empoli 2-2 Brescia-Venezia 2-2 Pordenone-Monza 1-1 Ascolentella 1-1 Regina-Pisa 1-2 Salernitana-Cremonese 2-1 La classifica anche qui la vedete qui la classifica Vede l'Empoli e la Salernitana al primo posto con 17 punti Staccate di due lunghezze Lecce e Spalla 15 punti Chievo-Venezia 14 Chi l'avrebbe mai detto? Frosinone 13 Cittadella 11 Monza 10 Qui comincia un po' a storcere un po' il naso Perché il Monza lo aspettavo con qualche punticino in più Insieme anche al Brescia che è a 9 punti In concomitanza con il Pordenone anche lui a 9 punti Cosenza che con la prima vittoria fa un balzo in classifica E va a 8 punti al dodicesimo posto Il Pisa anche lui con la vittoria a Guanta La Reggiana e la Regina a 7 punti Il Vicenza 6 punti Ascoli 5 punti Entella 5 punti Pescara 4 punti al penultimo posto E Fananino di Coda La Cremonese a soli 3 punti Ma con una partita da recuperare Raga che cosa vi dico? Che cosa vi dico? Questa è stata la giornata delle sorprese Perché chi lo avrebbe mai detto Che il Cosenza sarebbe andato a vincere sul campo del Frosinone Con una doppietta di carretta Ecco È stata una partita direi da parte del Frosinone Bruttina Con poche occasioni da gol Mi ricordo un tiro diciamo su punizione C'hanno provato qualche volta Però è stato bravo il portiere del Cosenza A respingere A essere sempre pronto Ovvero Falcone Cosenza che ha sfruttato delle amnesie difensive Da parte del Frosinone La prima su un cross dalla sinistra Ha dormito tutta la difesa La palla è arrivata sull'area piccola Bardi invece di bloccare il pallone O allungarlo Lo ha respinto poco poco più avanti Si è catapultato sul pallone Carretta che ha dovuto semplicemente Buttare il pallone in rete Il call Il secondo call sempre di Carretta È stata un'azione di Bytes All'interno dell'area dalla parte destra Bytes carriato sulla linea di fondo Guarda di mezzo Ha crossato raso terra sul secondo pallone Arrivato Carretta che ha fatto il gol del 2-0 E la squadra di Occhiuzzi Si è sbloccata Ecco Cosa voglio dire? Il Cosenza è un po' come il Pescaro Una squadra diciamo incompleta Lì davanti non hanno giocatori Attaccanti Che possono sbloccare la situazione Persa però è riuscito a vincere Anzi due ne ha perse veramente È riuscito a vincere la sua prima partita in campionato Lecce-Reggiana 7-1 Tripletta di Massimo Coda È tornato al gol Taxidis che non segnano dal 2018 È tornato al gol Filippo Falco Che mi pare che questo sia il suo primo gol in campionato Hanno segnato anche Maier e Calderoni Per la Reggiana Il gol della bandiera è stato siglato da Rozzio al 58esimo È una partita dove il Lecce ha giocato a tennis Si sono divertiti come si erano divertiti due anni fa Con l'Ascoli Se vi ricordate mi pare lo stesso risultato Non mi vorrei sbagliare Forse ricordo male Però mi ricordo una goleata da parte del Lecce con l'Ascoli Anche due anni fa Che cosa ve lo dico a fare? È un Lecce che sta incominciando a ingranare È un Lecce che ha incominciato a fare Quello che io mi immaginavo con Corini Ovvero è tornato al 4-3-1-2 Con Mancoso dietro i punti Lì davanti i Codes e i Pinsky Sono tanta roba Ricordiamoci che queste hanno in panchina Falco Hanno in panchina Pettinari Quindi questa è una squadra Che insieme alle altre Andrà a lottare fino alla fine Per tornare subito in Serie A La Reggiana Mi dispiace dirlo Però però Dopo la batosta in settimana Del 3-0 a tavolino A favore della Salernitana Per il famoso Ho fatto anche un video Caso di Salernitana Reggiana Dove non si sono presentati A Salerno Per causa del Covid Avevamo 29 positivi al Covid Beccano 7 peri Da parte del Lecce Quindi C'è qualcosa da rivedere Per quanto riguarda La squadra di Alvini Spal Pescara Che cosa vi devo dire? La Spal in pratica ha fatto Due tiri in porta Ovvero Il colpo di testa di Salamon Ha lasciato colpevolmente Solo da Scognamiglio Da azione d'angolo Che segna l'1-0 Nel primo tempo E poi il 2-0 Arrivato al 93esimo Con il primo gol In campionato Di Esposito Che riceve Un cross Un assist Al bacio Di Valoti Che si è mangiato La difesa del Pescara Con uno scavetto Partita diciamo Dei ritmi anche un po' blandi Il Pescara può recriminare Per aver Preso Una traversa E nella stessa occasione C'era un calcio di rigore Sul Vokic Non fischiato Ce n'era forse un altro Anche su Asensio Non fischiato Insomma Se l'orbitro Avesse preso Delle decisioni Probabilmente Staremmo parlando Di un'altra partita E forse di un pareggio E non di una vittoria Della Spal Però La Spal ha meritato Si è Si è Giocata al meglio Le sue carte Pescara che deve rimanere Sui suoi Soliti Errori difensivi Anzi Orrori Oserei dire Difensivi Cittadella Empoli Cittadella Passa in vantaggio Con Benedetti Al trentesimo Ma più che Gol di Benedetti Direi che Questo è Un autogol Del portiere Dell'Empoli Brignoli Che in pratica Benedetti Calcia Un calcio di punizione Da metà campo Esterno sinistro Verso la porta Brignoli Lascia rimbalzare Il pallone Che si sacca Sotto al set Sembra una Papetissima Proprio Di questo Del portiere Comunque Empoli Che non si arrende Torna in parità Con un calcio di rigore Di Mancusa Il sessantanovesimo 1-2 Marco Oliveira Il settantaduesimo Bel tiro da fuori Aria Rasoterra Sul palo Lungo Che beffa Maniero Il portiere Del cittadale Poi al 91esimo C'è il gol Di Gargiulo Che sfrutta In pratica Una giocata In aria Con un compagno Che fa Il velo E lui interviene Segna al 91esimo E pareggia Per il cittadella Che come al solito Non molla mai E blocca Un Empoli Che in pratica Si fa agganciare Dalla sederitana Prima in classifica Comunque Secondo me L'Empoli La vedremo Insieme A Spal Lecce Capito La sederitana Non so Fin quando Riuscirà A andare Avanti Non lo so Perché pure ieri Hanno vinto 2-1 Ma al primo tempo La Cremonese Se stava sul 3-1 Non rubava niente Ecco Ve lo dico In anticipo Brescia-Venezia Anche qui Brescia in vantaggio Con un euro goal Di Bisoli Cross dalla sedimistra Sul secondo palo Arrivato Bisoli Che Ha tirato di prima A incrocio Quindi bellissimo Gole al tredicesimo Poi c'è stata C'è stato il pareggio Di Forte Al trentatesimo Al cinquantacinquesimo Il raddoppio Sempre di Forte Che si sta sempre più Confermando Attaccante di categoria E di livello E poi arrivato Al novantacinquesimo Il pareggio Di Papetti Su un'azione Ingarbugliata In area Un colpo di testa Parato dal portiere Si è avventato Donnarumma Che poi si è fermato E ritornato Papetti Che di testa L'ha insaccata Al novantacinquesimo Per le rondinelle Che riescono a pareggiare Il Brescia alterna Partite Dove merita di vincere E poi pareggia E questa per esempio Che è una partita Che il Venezia Probabilmente Meritava anche Di vincere Il Venezia Di Zanetti Quest'anno Una squadra Veramente ostica Che secondo me Arriverà nella griglia Vale off Come fu Quattro anni fa Con Pippo Inzaghi Ecco Diciamola così Pordenone Monza 1-1 Il Pordenone Segna subito Con Musiolik L'inattacco Che sfrutta Un'azione offensiva Dopo 20 secondi E poi Si fa pareggiare Dal Monza Che in tutti i modi Cerca il pareggio C'è stata una partita Comunque Alla pari Fra le due squadre Segna il primo gol Incambiato Mirko Maric Con un'azione Bellissima Dove si vede Un calcio Una rovesciata Di Gittiger E poi si avventa Sul pallone Maric Che segna L'1-1 La partita Finisce In parità Il Monza Sta deludendo Un pochino Perché vederlo Lì a centro classifica Al nono posto Con 10 punti Un po' stride Una squadra Questa Che doveva essere Costruita Per la vittoria Di questo campionato Senza se senza ma Hanno giocatori Importantissimi Hanno speso tantissimo Quindi Occhio perché La panchina Di Di Brocchi Non è molto salda Potrebbe anche Da un momento All'altro Saltare Come Un minicill Come un raudo Salta Salta Vabbè Ragazzi Cosa Devo dire ancora Ascoli e Entella 1-1 Ecco Questa è una partita Delicata Era dedicata Per tutti e due Gli allenatori L'Ascoli cercava La vittoria Per fare tre punti E rinunciarsi un po' In classifica L'Entella Era passato in vantaggio Con Mancosa Anche lei Cercava la vittoria Per scagionare i fantasmi Di un ipotetico Esonero Esonero Che c'è stato Sia per Tedino Che per Bertotto A quanto pare Per l'Ascoli Non è bastato Il pareggio Di Sabiri Ma in realtà Anche ecco qua Come il gol Di Come il gol Di Benedetti Del Cittadella In realtà È una cazzata Di Brignoli Anche qui Stiamo parlando Di una cazzata Di Borra Che in pratica Era una punizione Parabilissima Proprio Era diciamo Che un passaggio Al portiere Si è fatto Passare il pallone Che è entrato In rete Buon per l'Ascoli Comunque Questo pareggio Con Sabiri Comunque un'Ascoli Ha cambiato pelle Ha cambiato modulo Ha provato a giocare Con il 3-5-2 Con Cangiano Dietro a Tupta Hanno messo Kragli La sua sinistra Cavionna a destra Sabiri Saric E Buche Dal centro cap Hanno giocato Una difesa a tre Con Brosco Corbo E Spendolfer È un'Ascoli Che fa fatica È un'Ascoli Che fa fatica Ecco si parla Adesso Di un ipotetico Arrivo Di Sottillo Stesso Sottilli Quello scorso anno Col Pescara C'è entrato Quella salvezza Il 14 agosto A mezzanotte All'ultimo calcio Di rigore È stata una cosa Allucinante Per il Pescara Ecco Sottilli Potrebbe essere Un profilo Giusto per l'Ascoli Un allenatore carismatico Uno che è capace Di spronare i ragazzi Magari come è successo Lo scorso anno Con Dionigi Che arrivò Poi a centrare Quella Salvezza Lentella 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 Sta stendendo All'inizio anno Ragazzi È un'antella Che Anche ieri Non ha schierato Morosini Titolare In attacco C'era la zanzara De Luca Con Petrovic A centrocampo Paolucci Con Settembrini Mazzocco È un'antella Che non riesce A riproporre Quello che faceva Lo scorso anno È stato esonerato Tedino Si parla di un arrivo Di un probabile Arrivo Di Vivarini Chi vedrà Vedrà Tra Sto Sottilli Sto Vivarini Vediamo cosa Succederà poi In Riva All'Ascoli Nelle Marche E all'antella Regina Pisa 1-2 La prima vittoria Del Pisa Una regina Che passa in vantaggio Anche in modo Rocambolesco Con il gol di Situm Che non è altro Che un mezzo tiro Cross Non si sa Da la destra Tirato col portiere Perilli Che è andato un po' A farfalline Diciamo così Sto portiere Che sta facendo Un po' desiderare La tifoseria Neraazzurra Del Pisa Comunque Pisa Che in 6 minuti Ribalta la partita Dall'ottantasesimo All'ottantaduesimo Primo un bellissimo Gol di Masucci E poi c'è il raddoppio Di Sibilli Che stile Il suo primo gol Tra i professionisti In serie B Quindi pensate un po' Prima vittoria In campionato Per il Pisa Che si sblocca Questa diciamo Che era più Una partita Da pareggio Almeno Non mi è entusiasmato Né la regina E né il Pisa La regina Che sta Trovando qualche piccola Qualche leggera Difficoltà In questo campionato C'erano C'erano in tanti Al Pisa Però Però Devono ambientarsi Bene In questa categoria Il Pisa Ieri sera Alle ore 21 Sul campo Della Salernitana Non mi viene adesso Il nome Del Del campo Della Salernitana La rechi Oh mannaccia C'è una miseria A me la memoria Raga scusatemi Ma dopo una giornata Di lavoro Sto veramente Esausto E già ricordarmi Tutte queste cose Per me È fantascienza Quindi Vi prego Sapete Che io sono Matto Diciamo così Allora Cremonesi In vantaggio Subito al primo Nudo Con il gol Di Lucchino Valsania Che io Saluto se mi vede Saluto Alex Se mi vede Una castagna Da fuori Il palo Sta ancora Tremano Secondo me Si è piegato Il palo Lì alla rechi Sotto la curva Della Salernitana Poi c'è il gol Di Diuric Che segna di testa Abbassandosi Il gol Del 1-1 E arriva Il gol Del 2-1 Anche qui Di testa Bello In pratica Infilzare Il portiere Volpe Della Cremonese Che è un bel gol Di testa Di Cupis Che fa Il 2-1 E la Salernitana Aggancia In classifica Al primo posto L'Empoli Ecco C'è da dire Che secondo me Questa non era Una partita Da perdere Per la Cremonese Anzi Meritava molto Molto di più Probabilmente Anche la vittoria Nel primo tempo La Cremonese Si è mangiata Veramente 2-3 Gol clamorosi Poteva chiedere Il primo tempo Addirittura Sul 2-3-1 Invece è finita 1-1 E poi nel secondo tempo Ecco La Salernitana Ha centrato il raddoppio La Cremonese Non è più Riuscita Poi A raddrizzare La partita Ragazzi Queste sono Le partite Dell'ottava giornata Fatemi sapere Qui sotto Cosa pensate Siamo arrivati all'ottava Probabilmente La settimana prossima Sarà decisiva Anche per la panchina Del Pescara Con Oddo Che il Pescara Giocherà contro Il Pordenone Che è quella Della Cremonese Ragazzi La Cremonese Settimana prossima Va sul campo Della Reggiana Quindi Pensate un po' Come una Reggiana Che ha preso 7 scopole Al Via del Mare A Lecce Gioca in casa Con la Cremonese Che deve assolutamente Fare il risultato E vincere Per uscire Dalle sabbie mobili Dove sta Essendo risucchiata Vabbè Io vi saluto Spero che questo video Vi sia piaciuto Ragazzi Mi raccomando Pollici in su Supportatemi Se ancora l'avete fatto Iscrivetevi Sul mio canale Qui sotto C'è il pulsante Iscriviti Attivate la campanellina Per avere Nuovi Notifiche Quando Carico Nuovi video Buonasera di via a tutti Sempre Forza Pescara Mi raccomando Qui sotto Iscrivetevi sul mio Instagram Seguitemi su Instagram Con le mie storie Con le mie foto storiche Sul Pescara E non Link Pescaresi convinti Che ve lo dico a fa Se volete farmi una donazione Ci saranno novità Sul canale Qui sotto c'è il link Trovate tutti i riferimenti Qui sotto in descrizione Io vi saluto Ci vediamo al prossimo video Buonasera di via a tutti Forza Pescara Sempre e comunque Anche in serie C In serie D In serie Z Pescara sempre nel cuore Ciao